Fettine di pollo COP ottenute da polli alimentati senza organismi geneticamente modificati. Tutte le carni COP sono ottenute da capi con alimentazione senza organismi geneticamente modificati. COP ha deciso di escludere tutti gli organismi geneticamente modificati dai prodotti a marco COP. Non era una posizione ideologica, contraria agli OGM in quanto tali, ma era il risultato di un dibattito scientifico al quale ancora oggi non si è conclusi, non si è divenuti ad una certezza, per cui COP ha applicato il suo principio, uno dei principi fondamentali che è quello della precauzione. Peraltro i consumatori non solo non li volevano allora, ma continuano a livello europeo. Le ultimi sondaggi anche di Eurobarometro confermano questa tendenza e sono trascorsi già quasi vent'anni. In pescheria abbiamo un'ampia offerta di pesci con il marchio COP che provengono tutti da allevamenti controllati e all'interno dei quali il mangime è privo di organismi geneticamente modificati. Il beneficio è tutto dentro al valore del marchio, è creare un forte rapporto di fiducia e anche di fedeltà del consumatore. Il consumatore avrà un motivo in più per venire a fare la spesa da noi e non andare a fare la spesa dai concorrenti. Lei è a conoscenza che il latte COP proviene da allevamenti all'interno dei quali non entrano organismi geneticamente modificati nella razione alimentare? Non lo sapevo. È interessato a questa caratteristica? Assolutamente sì. L'attività nostra come direzione qualità si concentra sulla definizione dei requisiti, dei capitolati tecnici di fornitura, poi tutta l'attività di qualifica e controllo dei fornitori di auditing lungo tutta la filiera e di analisi. Con il fornitore esiste un contratto che stabilisce quali sono i requisiti, il fornitore è tenuto a richiedere gli stessi requisiti all'allevatore e l'allevatore deve richiedere lo stesso requisito a chi gli produce l'alimento. Questo meccanismo contrattuale a cascata viene verificato, ognuno deve controllare chi ha alle proprie spalle e COOP controlla tutti quanti. Oggi avete visto il nostro laboratorio dove abbiamo tutta la tecnologia per fare analisi sul genoma e sul DNA, inoltre un ente terzo a campione verifica che tutto quello che noi facciamo e i nostri fornitori fanno sia effettivamente quello che poi andiamo a dichiarare come nostra politica. Alla fine dobbiamo garantire il prodotto, che nel nostro caso è mangime, all'allevamento. Quindi noi per garantire questo abbiamo la responsabilità, quindi che viene dal trasporto, che è responsabilità nostra, abbiamo la fase di trasformazione del prodotto e abbiamo anche la fase di cui abbiamo sempre responsabilità dell'approvvigionamento e andiamo presso i clienti come fanno sostanzialmente anche gli enti di certificazione. Partiamo sostanzialmente da vedere un po' tutte le condizioni che ci permettono di valutare il fornitore sotto l'aspetto delle garanzie che ci può dare, dei rischi sostanzialmente che un fornitore può avere rispetto ad un altro, poi dopo ci sono gli altri aspetti, andare a controllare la documentazione e vedere se sono davvero capaci ad esempio di distinguere un po' come siccome noi subiamo spesso odite eccetera, rivoltiamo questa nostra capacità in modo tale da poter valutare il fornitore. in questo stabilimento si producono circa 100.000 ton anno, di cui il 50% è biologico, un 25% è un OGM e l'altro 25% invece che pur essendo un OGM è venduto però senza la certificazione che invece abbiamo sugli altri due prodotti. non ho costi per quello che riguarda evitare le cross contamination, il lavaggio, le pulizie perché essendo impianto dedicato, quindi io praticamente i costi che ho sono i costi della materia prima in più, siamo intorno ai 6, 7, 8 euro secondo dei casi tonnellata. Poi c'è tutto il resto che sono i controlli e tutti quei discorsi che sono a protezione quindi quando io parlavo di quei 10 euro ton, diciamo che rimane in equilibrio e quindi si sostiene, perché? Perché sostanzialmente copre i costi che effettivamente ci sono. E lo sa che l'alimentazione è senza gli OGM? Sì, c'è scritto. Le interessa? Le è contenta di questa cosa? Sicuramente. Sui prodotti finiti il limite è più basso di quello che la legge consente, quindi ci siamo dati un limite più restrittivo che non è 0,9 ma è 0,1. In etichetta è obbligatorio scrivere il negativo, quindi se contiene, sei obbligato a scriverlo, ma al contrario non lo puoi scrivere. Possiamo fare la comunicazione che il nostro prodotto, quindi quel latte, quelle uova, quella bistecca sono ottenute da animali alimentati senza OGM, ma non puoi scrivere che quel latte non ha OGM, perché sarebbe una dichiarazione falsa. Li spenderebbe due centesimi di euro in più per avere la garanzia che la carne proviene da allevamenti senza OGM? Se sono due centesimi sì, se sono di più non lo so. Certamente c'è una crisi molto forte, c'è una richiesta altrettanto forte di prodotti che costano poco, noi siamo convinti che non sia pigliando scorciatoie sulla sicurezza e sulla qualità che riusciamo a vincere questa battaglia. Una cosa che in futuro potrebbe essere per noi Italia, sistema Italia, molto critico è se in Europa si cominciasse a coltivare il mais geneticamente modificato. L'Europa in generale e l'Italia in particolare non sarebbe in grado di reggere alla coesistenza. Avere due linee separate sarebbe praticamente impossibile o possibili a costi elevatissimi. Allora il vero tema è questo, chi paga? Chi deve pagare il fatto che se io scelgo di mangiare biologico o se io scelgo di mangiare un prodotto di OP o IGP, debbo avere alcune caratteristiche che l'ingresso di questa tecnologia potrebbe cancellare. Perché nel caso del biologico potrebbe cancellarlo completamente. L'Italia in particolare, ma l'Europa più in generale, ha un patrimonio agricolo fatto di produzioni riconoscibili, di alta qualità e di grande identità. Gli OGM per loro natura sono prodotti indistinti, senza patria e senza un nome o un cognome. Oggi il Made in Italy è un valore che vale certamente di più come brand dell'OGM. Questo è fuori discussione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.